Dopo una settimana di monitoraggio della corsa del virus, il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, a seguito di un confronto con la presidente Anci Marche e di sindaci dei comuni maggiormente colpiti dal virus, ha firmato l'ordinanza che resterà in vigore fino alla mezzanotte del 27 febbraio. Saranno 20 le città della provincia di Ancona che dalla mezzanotte di oggi si coloreranno in arancione. In questi comuni saranno valide le disposizioni contenute nel DPCM nazionale. Stop alle attività di ristorazione, resta consentito l'asporto fino alle ore 18 per i bar e fino alle 22 per i ristoranti e la consegna a domicilio. Restano aperte le scuole di ogni ordine grado, con gli istituti superiori in presenza al 50%, chiusi invece i battenti di mostre e musei. Per i comuni che entrano in zona arancione è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo per comprovate necessità. Tutti gli altri 27 comuni della provincia anconetana resteranno gialli, ma con limitazioni agli spostamenti. Vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo per comprovate esigenze. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22. Sono consentiti poi gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti e per una distanza non superiore ai 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. L'ordinanza della Regione inoltre conferma sempre l'uso dell'autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento. È infine fortemente raccomandato lo svolgimento dell'attività didattica con modalità a distanza negli istituti scolastici in cui si registra un aumento dei casi di contagio da Covid-19. Mi dispiace veramente dover prendere un provvedimento simile e così sofferto, ma la salute e la sicurezza dei cittadini, la tenuta delle strutture sanitarie e la salvaguardia degli operatori devono essere sempre al primo posto, ha scritto in un post su Facebook il presidente Francesco Acquaroli. Quelli che da domani fino alle ore 24 di sabato 27 febbraio entrano in zona arancione, sono i comuni dove si registra il maggior incremento di contagiati, gli stessi annunciati ieri. Raccomando, ha concluso il presidente, di rispettare tutte le precauzioni e di continuare a fare attenzione.